stasera parliamo di un caso molto molto controverso avete sentito parlare del caso di questo ragazzo joey spedone di 19 anni che nell'agosto proprio scorso del 2022 è stato trovato morto annegato in modo molto molto controverso e particolare a basto in abruzzo basto stare abruzzo ragazzi scusate ma io la geografia facciamo molto a cazzotti quindi abbastanza vicino a me nel senso io sono nel lazio quindi abbastanza vicino non so se c'è qualcuno di quei di quei posti e avete ne avete sentito parlare ne ha parlato molto chi l'ha visto e se ne è parlato molto anche su molti giornali nel senso che sono notizie abbastanza ci sono molte notizie ma ci sono anche poche informazioni questo è uno di quei casi dove io vi dico sempre sono contenta del fatto che ci sono alcuni alcuni crimini alcuni casi che vengono trattati con i guanti anzi sembra vengono trattati con i guanti in realtà nella modalità in cui dovrebbe dovrebbe trattarsi un crimine cioè senza dare notizie al razzo di cane in modo così no buttato al vento soltanto per fare click o audience ragione per cui di joey si sanno poche cose e controverse ed è per questo che ho deciso di parlarne un po per perché appunto un caso di pochi mesi fa quindi agosto 2022 le ultime notizie sono di dicembre 2022 quindi veramente di un paio di mesi fa e poi non si sa più niente non si sanno non si sa bene che cosa sia accaduto al corpo quindi sappiamo solo la causa della morte ma non abbiamo diciamo l'esame autoptico non è stato reso pubblico non sono stati resi pubblici altri dettagli dell'indagine il contenuto del telefono al più è uscito qualche audio dal telefono non tanto dal telefono di joey quanto da una testimone che ci ci fa ascoltare un audio di joey ma non si sa molto però io ho deciso di parlarne perché vorrei ragionare con voi un po su cosa potrebbe essere capitato a questo ragazzo perché di base si parla di si è iniziato parlando di suicidio grazie sei un po più giù di vasto ma quindi sei sempre di diciamo di quei pizzi a roma si dice di quei pizzi cioè di di quei posti scusate ogni tanto mi esce un modo di dire romano dicevo ci sono diciamo questioni controverse perché in un primo momento si passa un suicidio la famiglia come in realtà molte famiglie non so se vi ricordate abbiamo parlato di gaia randazzo anche in quel caso la famiglia inizio no sembrava dire no non è possibile non l'avrebbe mai fatto in questo caso specifico vedremo che effettivamente è molto è molto complicato parlare di suicidio almeno dal mio punto di vista è molto complicato parlare di suicidio e quindi capiremo il perché si parla di un ipote di cassetta questo qui è joyce pedone un ragazzo di 19 anni che sostanzialmente appunto abbiamo detto si si muove abita nella provincia di vasto e che viene trovato morto la mattina del 22 agosto 2022 viene trovato dopo due giorni in cui si erano perse le tracce sostanzialmente di joyce che cosa era successo quel 20 di agosto quindi la notte tra il 20 e il 21 succede questo joyce lavora lavora facendo il cameriere a 19 anni abbiamo detto ragazzo che si dà molto da fare era tornato a vasto per l'estate si si dà da fare lavorando come cameriere la mamma ci racconta che lavora dalle 18 a alle 24 quindi sostanzialmente si fa la sua bella serata di lavoro alle 24 torna a casa quindi a mezzanotte tra il 20 e 21 torna a casa e che cosa succede però succede che prima di tornare a casa prenota un taxi per quella serata quindi c'è proprio la registrazione della chiamata di joyce che prenota un taxi per farsi andare a prendere verso l'una e mezza a casa una mezza di notte è estate chiaramente quindi joyce finito il lavoro sicuramente vuole andare a divertirsi che cosa dice la mamma la mamma è tornata sempre verso mezzanotte da un da un concerto di giovanotti torna e lo trova in balcone è in balcone sta guardando la luna non so se avete visto il titolo di questa live no io vi lancio una provocazione la lancio in generale dice un giovanotti ucciso dalla luna perché dalla luna perché joyce era un po era molto attratto anzi ultimamente da tutto il diciamo tutti quegli argomenti che avevano a che fare con l'esoterismo e la spiritualità cominciavo a farsi un sacco di domande a cercare di capire se dietro quel mondo ci fosse un appiglio surreale quindi se effettivamente no questa questa connotazione che diamo alla luna no con un volto esoterico con tutta una serie di cose che accadrebbero no quando la luna raggiunge determinate posizioni anche il solo fatto che condizioni le maree quindi che in qualche modo abbiano una certa influenza su sulla terra e sull'uomo tutta questa roba qui affascinava moltissimo joyce un ragazzo che comunque di base era molto riflessivo un ragazzo che molto curioso vitale sempre comunque interessato a scoprire cose nuove tanto che questa questione della luna diventa centrale lo zio racconta che ultimamente no gli faceva spesso delle domande gli parlava spesso di questo suo di questa sua curiosità per l'esoterismo e cosa di cui in realtà non si era mai interessato prima e quindi comunque destra anche qualche curiosità nei familiari perché tutto di colpo joyce sembra interessarsi a un argomento che fino a quel momento non l'aveva interessato quindi che cosa succede la mamma torna a casa da questo concerto di giovanotti e lo trova sul balcone che sta fumando una sigaretta va da lui e comincia a parlare della luna c'è proprio joyce che gli dice hai visto stasera che luna hai visto no quanto è bella proprio gli parla di questa di questa luna la mamma ovviamente non pensa niente di strano la mamma non dà tanto credito a questa questione della luna perché sembrava una cosa detta così nel senso poi lui era un ragazzo ripeto molto interessato a questi argomenti quindi la mamma non ci fa neanche troppo caso nel senso è una frase come una la prende come una frase come un'altra che cosa succede però succede che la mamma gli chiede cosa ha intenzione di fare quella sera e joyce gli dice niente mamma esco con due amici gli fa il nome di questi due amici e sono due amici fidati quindi la mamma è tranquilla e con due amici che le conosce sostanzialmente sono due amici fidati di joyce quindi con cui ha rapporti da tanto tempo e si incammina tranquillamente verso il taxi quindi arriva il taxi che lui ha chiamato precedentemente prima di staccare al lavoro vi ricordatevi ho detto lui ha prenotato questo taxi per una certa ora che lo vado a prendere a casa arriva il taxi si fa accompagnare a punta penna quindi si fa accompagnare in questa spiaggia di vasto chiaramente il tassista lo lascia prima della spiaggia lo lascia in questo viottolo che lo porterà alla spiaggia e cosa ci dice il tassista? ci dice che joyce era saltellante, allegro nelle interviste rilasciate a chi l'ha visto dice proprio che andava fischiettando, saltellando quindi dava proprio l'immagine di un ragazzo allegro, pieno di vita va verso questa spiaggia e il tassista ribadisce con molta convinzione che joyce non aveva niente con sé non aveva borse, non aveva borzoni, non aveva niente che trasportasse adesso scopriamo perché vi do questo particolare e soprattutto perché è verosimile quello che dice il tassista perché il tassista, io vi dico sempre che in realtà poi dobbiamo prendere con molta cautela le testimonianze perché in generale una roba del genere neanche ti dovrebbe troppo rimanere in mente perché voglio dire, un tassista porta un sacco di persone adesso perché tu ti dovresti ricordare proprio di questo ragazzo al di là che era successo veramente un paio di giorni prima e al di là che era un'ora anche un po' particolare perché comunque era luna e passa di notte quindi un taxi che in qualche modo viene prenotato così con anticipo con un orario così tardo ti fa rimanere in mente l'evento cioè in qualche modo è possibile che io dico ah sì è vero c'era quel ragazzo che mi ha chiamato e ha prenotato questo taxi per un'ora tarda della notte ma se non fosse questo lui rimanda un'informazione importante dice io ero solito quando comunque prendevo i clienti sul taxi che se avessero avuto delle borze le avrei, borze detto alla romana, delle borse le avrei messe io nel portabagagli e così come le avevo messe nel portabagagli non appena scendevano dalla macchina io le avrei prese e gentilmente date all'utente, al cliente quindi comunque io mi ricordo bene di non aver tirato assolutamente niente fuori o dentro dal portabagagli quindi questo ragazzo non aveva niente e questo ce lo conferma anche la mamma che dicevo è uscito di casa solo ed esclusivamente con il cellulare in tasca quindi non aveva nient'altro ok? questo perché adesso vedremo perché è importantissimo questo elemento arriva su questa spiaggia e sulla spiaggia pare partecipi a un falò in realtà non sappiamo più niente dal momento in cui il tassista lo lascia a punta penna perché di lì spariscono le tracce di Joyce per due giorni finché non lo trovano cadavere che cosa pare abbia fatto Joyce quella sera? pare abbia partecipato ad un falò come facciamo a saperlo? perché sulla spiaggia vengono ritrovati i propri resti di un falò e un pescatore c'è una testimonianza appunto di questo pescatore che quella notte passa davanti a quella spiaggia quindi è in barca, sta pescando è nelle prossimità di quella spiaggia e vede da lontano un falò un falò che resta acceso dirà questo pescatore per molto tempo quindi non un falò breve perché come è noto se non gli si dà in qualche modo qualcosa da ardere un falò si spegne quindi se ci sono due o tre ciocchetti di legno accesi ma poi non si aggiunge altra legna o aggiunge altro materiale che fa fuoco cioè che si brucia, che arde e il falò si spegne cioè banalmente quindi c'è questa testimonianza che dice che fino alle prime ore dell'alba il falò continua ad andare quindi questo che cosa vuol dire? rimanda l'informazione che sulla spiaggia c'è qualcuno che sta facendo un falò e che qualcuno probabilmente è in compagnia di Joyce o Joyce è in compagnia di questo qualcuno chi è questo qualcuno? punto di domanda e questo punto di domanda è proprio quello che stanno cercando di scoprire gli inquirenti ancora oggi perché non c'è traccia di chi potrebbe essere questo personaggio o questi personaggi che sono a fare il falò sulla spiaggia con Joyce tra l'altro non sono i due amici che aveva nominato Joyce alla mamma io prima vi ho detto la mamma viene detto mamma esco con tizio e caio tizio e caio e amici pitati per questo la mamma dice vabbè ok ci vediamo domani questi due ragazzetti sostanzialmente stavano facendo altro quella sera alibi confermato quindi non entrano neanche per sbaglio almeno in queste fasi non sono entrati o non si ha notizia che siano entrati nelle indagini perché non era con questi due ragazzi con questi due amici con chi era Joyce di nuovo punto di domanda passano due giorni il giorno dopo Joyce non rientra a casa quindi notte tra il 20 e il 21 Joyce va a questa spiaggia il 22 ritrovano come vi ho detto il corpo tra il 21 notte e il 22 quindi tutta la giornata del 21 fino al 22 in cui non viene ritrovato il corpo non si hanno notizie di Joyce non si sa assolutamente niente di Joyce il telefono di Joyce smette di essere reperibile dalle 3 della notte del 21 ok quindi tra il 20 e il 21 cioè alle 3 di notte della notte in cui scompare quindi lui il 20 che però già il 21 perché dopo la mezzanotte scatta il 21 quindi il 21 al luna il 20 al luna di notte si rega in questa spiaggia alle 3 di notte il telefono smette di funzionare ok quindi presumibilmente Joyce non c'è già più a quell'ora perché altrimenti no non si spiega come mai che il telefono non sia più raggiungibile dalle 3 di quella notte quindi sicuramente qualcuno con lui o lui stesso o qualcuno con lui spegne quel telefono quindi che cosa succede? succede che per tutta la giornata del 21 non si hanno notizie di Joyce ed è il 22 a mattina il 22 mattina in cui viene ritrovato morto come Joyce è tra gli scogli leggo testualmente sotto un trabocco a punta penna immerso ascoltate bene in posizione verticale con un borzone pieno di sabbia un peso che gli fa da zavorra di oltre 40 kg che è sostanzialmente un borzone pieno di sabbia attaccato alla caviglia adesso io vi faccio vedere questo borzone eccolo qua non so se riuscite a vederlo questo a sinistra è il borzone con cui è stato diciamo zavorrato questa è sostanzialmente questa a destra è la sabbia che c'era all'interno sabbia che non pare non coincidere questa informazione che però va verificata nel senso che prime informazioni dicono che la sabbia non coincida con la sabbia di la spiaggia su cui avrebbe fatto questo benedetto falò quindi c'è anche da capire ripeto le informazioni gli inquirenti le stanno fornendo veramente come come no col contagocce quindi avere tutte le informazioni non è facile però quello che noi sappiamo è che era immerso esatto come dice Solle Nero in verticale quindi come se fosse stato in piedi ok quindi immerso in verticale con alla caviglia quella corda che vedete che è in basso nell'immagine con un nodo scorsoio quindi anche un nodo neanche particolarmente difficile da togliere e sotto questa a fare da zavorra a Joyce c'è questo borzone pieno di sabbia che è dal peso di 40 kg inizialmente si pensa ad un suicidio però adesso io vi descrivo effettivamente no la come è stata ritrovata la salma di Joyce Joyce era alto 1,80 m 1,80 m e l'acqua nel punto dove è stato ritrovato Joyce che tra l'altro è stato ritrovato alla fine di una sorta sia appunto di trabocco quindi una sorta di piccolo molo ok molo dal quale tra l'altro la gente si andava a tuffare per fare il bagno ok una sorta di pontile di molo una roba di legno che finiva nell'acqua no e Joyce lo trovano appunto ai piedi di questo pontile a fine di questo pontile dal quale la gente si andava a fare il bagno nel senso che era anche un posto frequentato non era isolato lo trova però la guardia costiera perché quella mattina stanno facendo il giro appunto della costa e si rendono conto che c'è questo questo cadavere in piedi perché vi stavo dicendo Joyce è ben visibile perché l'acqua in quel punto è alta due metri e mezzo poco più di due metri e mezzo Joyce è alto un metro e ottanta e che cosa succede la corda è diciamo le informazioni sono tra i 50 e i 70 centimetri lunga ok e il borsone crea anche un'altra un'altra come si dice un'altra un altro pezzo che allunga per quanto sia la corda quindi sono circa 20 centimetri di borsone 50 barra 70 centimetri di corda più un metro ottanta di Joyce capite bene che la l'altezza di Joyce con la corda e con la borsa arriva con la testa a pelo all'acqua quindi al pelo dell'acqua che cosa vuol dire annecarsi in quella maniera è molto complicato cioè di solito generalmente ci si annega o si fa annegare qualcuno in acqua molto più alta cioè in profondità maggiori uno per garantirsi che la persona non venga a galla due perché tutto sommato no se io mi devo uccidere devo assicurarvi di morire quindi è difficile che io mi uccida con la possibilità di slegarmi o la possibilità di raggiungere la superficie così velocemente cioè dovete proprio immaginare che sto ragazzo stesse con la testa a pelo dell'acqua ok quindi ad un primo impatto sicuramente gli inquirenti pensano ad un suicidio poi però un po' ci ragionano meglio un po' tutto sommato la famiglia anche in questo caso dice no non è possibile non è possibile perché Joyce non era depresso non è possibile perché Joyce non aveva in nessun modo mai dato nessun tipo di pensiero di adito a immaginare che potesse fare una roba del genere tra l'altro aveva già comprato dei biglietti per fare un viaggio quindi comunque progettualità voglia di futuro un ragazzo che comunque in qualche modo si stava mettendo dei soldi da parte tra l'altro lui viveva a Parma quindi era tornato per le vacanze a vasto ma già no ripeto aveva fatto i biglietti per tornare a Parma per fare due esami all'università andare a Barcellona con gli amici quindi aveva già in qualche modo si era attivato con una certa progettualità che tutto ci fa credere tranne che Joyce possa essersi ucciso però io vi ho anche detto che esiste una maschera della depressione che non è solo quella della depressione comunemente intesa di chi proprio lo mostra e lo fa vedere che odia la vita che non ce la fa più che la vita è troppo sofferente da sopportare però ci sono comunque dei segnali abbiamo visto Gaia Randazzo che vi ho detto che a un occhio clinico comunque nonostante sembrasse una ragazza senza pensieri si era mossa in modo tale da sembrava quasi anticipare un gesto estremo perché il modo in cui si era imposta per prendere la nave il modo con cui questa cura delle creme questa eccessiva cura del corpo c'era comunque un tormento sembrava parlare di un tormento i messaggi al fidanzatino l'aver rotto con il fidanzatino qualche giorno prima le note sul telefono qui invece abbiamo un ragazzo che di questo non ha assolutamente niente non c'è nessuna ombra non c'è nessun tormento non c'è nessuna sensazione di tristezza da nessuna parte in Joyce ok quindi è molto molto complicato gestire la questione se è ucciso e allora che cosa che cos'altro viene messo in campo si indaga un pochino come si fa di solito in questi casi si indaga sulla vita della vittima per comprendere gli ultimi messaggi le ultime telefonate gli ultimi contatti e si viene a conoscenza di una roba abbastanza controversa cioè intanto sul collo di Joyce quando il corpo viene tirato fuori dall'acqua e si comprende l'anatomo patologo ci dice e l'unica informazione che abbiamo sul lato medico legale è che è morto per annegamento ora potrebbe essere morto lì come potrebbe essere morto altrove ed essere stato portato lì però c'è un altro elemento molto particolare ovvero la presenza aspettate che ve la metto qua l'immagine la presenza sul corpo sul collo di Joyce di questa questa roba qui che cos'è sembra una lettera Z una lettera N adesso non è chiaro ma è impressa come un marchio a fuoco cioè viene utilizzato un coltello rovente messo per piatto quindi ritorna all'idea del falò non il fuoco viene scaldato il diciamo il coltello dalla parte chiaramente del metallo e poi viene impresso sulla pelle a formare questa forma che si dice una Z ma in realtà potrebbe essere anche una forma di qualche runa oppure potrebbe essere un simbolo esoterico di qualche tipo come potrebbe essere un simbolo a caso questo noi non abbiamo ancora contezza di questo però pare che appunto questo simbolo questo marchio lui non lo avesse prima di arrivare in spiaggia la mamma i colleghi di lavoro nessuno nota sul collo poi tra l'altro come vedete Joyce portava i capelli raccolti aveva le treccine nessuno nota questa questo marchio a fuoco e Fede adesso vedrai che c'è qualche elemento che ci fa capire che se non c'era entrato comunque c'è dietro l'ombra di qualcosa perché al di là di questa Z che non è stata spiegata emerge un'altra testimonianza la testimonianza di una ragazza adesso ve la prendo perché ho riportato alcune alcune parti di quello che aveva detto questa ragazza praticamente che cosa ci dice questa amica virtuale di Joyce partendo dal presupposto appunto che Joyce era molto interessato abbiamo detto a questo mondo esoterico che era entrato in alcuni gruppi telegram che parlavano di questi di queste di queste cose diciamo di queste conoscenze di queste filosofie vogliamole chiamare come come volete che cosa che cosa viene a diciamo cosa emerge in modo specifico che lei e lui questa testimone che vuole rimanere anonima nel senso che poi se non sbaglio addirittura anche su chi l'ha visto lei è blerata mi sembra che non mi ricordo se poi ultimamente la fanno vedere in viso ma in un primo momento non si vede in viso che cosa cosa ci racconta ci racconta che lei lo conosce tramite questo gruppo telegram quindi non l'ha mai visto dal vivo Joyce lo conosce e comincia un rapporto molto stretto cioè anche di scambio di messaggi molto frequenti messaggi vocali perché anche lei è curiosa di questo mondo quindi il mondo del sottotitismo il mondo soprattutto della luna che succede che a un certo punto Joyce viene messo dal proprietario del gruppo dove era anche questa ragazza viene preso e messo in questo gruppo chiamato i figli della luna dove all'interno non c'era moltissima gente c'erano 6-7 persone e Joyce appunto raccontava a questa ragazza che all'interno di questo gruppo c'era un utente che si faceva chiamare sacerdotessa quindi che aveva nickname sacerdotessa questa sacerdotessa pare non si capisce bene se è la stessa figura di cui parla Joyce ma si presuppone di sì avesse fatto un patto con lui un patto diciamo con un rituale anche con uno scambio di sangue questa ragazza infatti fa sentire un audio anzi più di un audio di Joyce che le racconta come con questa sacerdotessa con questa ragazza questa sacerdotessa avessero fatto questo rituale con pentacoli pentacoli sono i pentacoli io sbaglio era pentacolo e pentagramma tra pentacoli pentacoli con il sale addirittura si fossero scambiati il sangue quindi si fossero tagliati un dito e si fossero scambiati il sangue tanto che questa ragazza questa testimone dice io glielo dicevo che a me queste cose non mi piacevano non ero d'accordo e anzi gli consigliavo di lasciar perdere che scopo aveva questo patto di sangue la la testimone dice con lo user sacerdotessa in questo gruppo c'era anche una ragazza che praticava ritualistica non riusciva a parlare con nessun'altra ragazza Joyce non riusciva a parlare con nessun'altra ragazza perché sembrava stregato e convinto che questo patto lo imprigionasse i vocali ritrovati nel cellulare di Joyce riportano che lui e la sacerdotessa avevano fatto un patto si sente cioè si trascrive quello che dice Joyce addirittura lei ha bevuto il mio sangue e io il suo si sente nella nota un patto al quale Joyce non sapeva come sottrarsi e che l'ha condizionato per tutta l'estate quindi di base c'è questo elemento molto molto importante che viene valutato con questa fantomatica sacerdotessa con cui lui racconta di aver setto un patto tale per cui non poteva neanche avere rapporti con altre ragazze perché questa sacerdotessa l'aveva in qualche modo legato a sé con questo patto per cui se lui avesse fatto qualcosa per ferirla sarebbe stato ferito a sua volta ok dice ancora abbiamo fatto una sorta di rituale ha fatto un pentagono un cerchio di sale ci siamo bucati le dita e ci siamo bevuti l'uno il sangue dell'altro e infatti a questo punto gli inquirenti dicono visto che allora il ragazzo non dice l'ho fatto con la sacerdotessa dice l'ho fatto con una tizia ok poi che succede che dentro questo gruppo c'è questa tale sacerdotessa e quindi gli inquirenti gli fanno uno più e dicono è possibile che la tizia di cui parla Joyce sia proprio questa sacerdotessa allora uno di voi potrebbe dire è facile c'era il gruppo c'era la sacerdotessa andassero a prendere la sacerdotessa no perché dopo la morte di Joyce il gruppo viene eliminato ok quindi i gruppi telegram come funzionano non è facile recuperare il contenuto quando viene eliminato telegram su questo è avanti anni luce a whatsapp per cui quando si elimina qualcosa si elimina abbastanza definitivamente e soprattutto è possibile utilizzare telegram senza associarlo così come facciamo con whatsapp ad un numero di telefono cioè si può creare anche un'identità che non è legata a nessun tipo di diciamo numero o identità reale o ma Joyce era molto molto curioso e quindi si è lasciato condizionare più che manipolare dalla curiosità nel capire questo tipo di rituale dove potesse portare o evidentemente sicuramente subiva l'influenza di questa sacerdotessa di questa ragazza non sappiamo se le due figure coincidono ma è molto probabile e quello che io vi ho chiesto vi ho fatto come titolo di questa live è proprio ucciso dalla luna perché appunto il gruppo dove sarebbe stata all'interno questa sacerdotessa si chiamerebbe proprio figli della luna in realtà questo figli della luna sarebbe stato in qualche modo una sorta di nuovo movimento religioso proprio con al centro rituali dedicati alla luna quindi in realtà niente di cattivo brutto demoniaco esoterico inteso in senso negativo perché non c'era nessun tipo di divinità non c'era nessun tipo di rituale di devozione se non appunto alla luna stessa che notoriamente è un satellite non è di certo una divinità quindi la domanda che si fanno gli inquirenti è Joyce è morto perché faceva parte di questa chat e quindi in qualche modo ha partecipato a un gioco finito male oppure è morto per una punizione e quindi qualcuno ha voluto ucciderlo volutamente cioè c'è in qualche modo la volontà diretta di uccidere Joyce o è qualcosa che è andato storto e ovviamente per non poter svelare quello che c'era dietro hanno inscenato la morte di Joyce quindi hanno fatto in modo che sembrasse anche un po' un goffo suicidio punto di domanda e chiaramente la procura continua ad indagare sul caso perché il fascicolo tra l'altro è aperto per istigazione al suicidio questo ci fa capire che sicuramente non si crede che sia un suicidio cioè non è non è quella la deriva che sta prendendo al solito quando non si sa spiegare qualcosa che accade è tutto suicidio ma anche perché i contorni sono belli belli strani e dall'altra parte però si parla di istigazione al suicidio come se in qualche modo fosse stato portato ad uccidersi quindi la domanda resta cioè se è stata vittima di un gioco finito male gioco rituale chiamiamolo come volete oppure se la morte è stata voluta Kika dice secondo me l'hanno ammazzato e poi piazzato lì e Rodi dice a volte ci sono sette wannabe che imitano in motocolf rituali delle sette serie tutte e due prospettive interessanti nel senso che Kika dice secondo me l'hanno ammazzato e poi piazzato lì scenario possibile ammazzato però prevede che l'abbiano ucciso volutamente è anche possibile che invece sia valida l'opzione gioco finito male e poi successivamente messo in quelle condizioni piazzato come dice Kika in quella condizione specifica per simulare un suicidio quello che è chiaro è che lui muore annegato cioè l'anatomo patologo ci dice che lui muore annegato quindi sicuramente lui muore a contatto con l'acqua ora la domanda è muore annegato nella spiaggia dove fanno il falò e successivamente viene messo in verticale con il peso alla caviglia a punta penna oppure muore direttamente a punta penna messo nell'acqua e quindi non addormentato non morto ma vivo e annega direttamente lì questa domanda chiaramente non ha risposta nel senso che muore annegato ma non ci dice in quale acqua muore annegato ovviamente questo è chiaro e Rodi dice rido iniziato ho finito male ho famente trasformato in un sacrificio ho fatto male pure quello mi fa pensare a un battesimo come rituale è possibile chiaramente che il rituale fosse proprio relativo all'acqua e alla luna se quel giorno in qualche modo Joyce fa notare alla mamma la presenza di questa luna molto particolare così bella è possibile che il rituale noi sappiamo che le maree sono influenzate dalla luna e quindi è possibile che in quel giorno specifico abbiano voluto in qualche modo fare un rito iniziatico proprio per anche in qualche modo suggellare l'entrata di di Joyce all'interno di questa ma non chiamiamola neanche setta di questo gruppo di questo gruppo rituale di questo gruppo di questa nuova religione e che purtroppo questo rituale sia finito male dice che prevedeva un bagno esatto un bagno un battesimo qualcosa che comunque richiamasse la presenza dell'acqua in relazione alla luna perché sono due elementi che vengono comunque messi in relazione è chiaro che questa roba qui destra molti 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 sospetti il problema grande qual è? uno che chiaramente non si può stabilire se lui sia morto in quelle acque o in altre acque perché ovviamente non possiamo sapere per concertezza in quali delle acque sia morto quindi è chiaro che l'anatomo patologo ci potrà dire quando è morto cioè noi sappiamo che per un giorno intero Joyce è rimasto scomparso ed è molto improbabile cioè quello che si dice ciao Mary quello che si dice è che è molto improbabile che lui sia rimasto appeso lì in quelle acque per un giorno intero perché lo avrebbero notato molto prima cioè Joyce è a pelo d'acqua ha la testa a pelo d'acqua in verticale acqua e cristalline ragazzi tra l'altro cioè cercate una foto di punta penna c'è un'acqua e cristalline non è come Ostia notoriamente verde non è no un litorale laziale in quel punto specifico l'acqua è cristallina di fatti lo nota la guardia costiera da lontano cioè lo vede proprio c'è un corpo così in verticale con un fondale bassissimo quindi immaginate che sia rimasto là per un giorno intero tra l'altro questa informazione non ce l'abbiamo come è stato ritrovato il corpo lo possiamo sapere sicuramente dai fenomeni trasformativi cadaverici cioè a che grado di trasformazione era il corpo di Joyce Post Mortem vi ricordate quando vi ho parlato della Resinovich abbiamo detto che sappiamo che è morta 48 72 ore prima del ritrovamento quindi quasi due mesi dopo da quando è scomparsa perché c'era un rigor mortis che si stava stava retrocedendo ok quindi quella fase lì non si può invertire il rigor mortis non possiamo invertirlo e quindi inevitabilmente sappiamo che Liliana Resinovich è morta in quelle 48 72 ore perché è il tempo che ci vuole per avere una rigidità cadaverica e per avere l'effetto opposto in questo caso non sappiamo in che in quale degli step dei fenomeni trasformativi cadaverici si trovi Joyce quindi è morto quella sera stessa ed è stato nascosto per poi essere messo in mare o è stato messo in mare quella sera stessa quindi nel momento stesso in cui è morto e quindi se ne sono disfatti secondo a chi appartiene il borsone vi ho fatto vedere questa borsa adesso ve la rimetto questo borsone questo a sinistra blu e rosso che è un borsone molto vecchio non tanto perché è usurato quanto proprio il tipo di borsone non era più in vendita addirittura c'è chi dice che si poteva ottenere con dei punti ma comunque era un borsone molto particolare non era era molto noto 10-20 anni prima quasi 10-15 anni prima quindi uno di quei borsoni che tutti li trovi in casa da anni e anni e anni abbiamo tutti dei borsoni che stanno là magari da 10 anni 20 anni con cui andavamo in palestra andavamo al mare con quei borsoni che sono storici in qualche modo e che non appartiene in nessun modo alla famiglia di Joyce quindi altra domanda è questo borsone e questa corda da dove saltano fuori chi li aveva di chi sono dove sono stati presi perché un altro elemento importante è questo cioè lui si è ucciso alla fine di questo pontile dove sabbia non ce n'era perché era un pontile sul mare ok quando riempito se fosse stato veramente Joyce a decidere di ucciderci in quel punto quando avrebbe riempito questo borsone intanto chi gli avrebbe dato quando l'avrebbe riempito e soprattutto questo borsone pieno pesava 40 kg ora questo ragazzo si sarebbe dovuto portare in collo 40 kg di borsone pieno di sabbia per andarsi a uccidere a punta penna cioè in questo pontile di punta penna appare un po' inverosimile anche volendolo immaginare come un suicidio appare molto molto inverosimile se non fosse che lui che cosa fa quindi sostanzialmente si siede la dobbiamo immaginare così si siede su questo pontile si fa questo nodo tra l'altro guardate che corda c'è una corda anche abbastanza neanche troppo resistente si fa questo nodo scorsoio alla capiglia poi che cosa fa getta il borsone perché deve tirare giù la zavorra quindi getta questi 30 kg di 40 kg scusatemi di borsone e va giù appresso a lui per rimanere in piedi perché rimane in verticale perché chiaramente i corpi senza vita un corpo appeso morto galleggia senza zavorra galleggia quindi ed è il modo in cui troviamo spesso i cadaveri che galleggiano verso la riva che galleggiano vengono portati dal mare dal mare o dai fiumi quindi noi troviamo questo corpo in piedi che galleggia in piedi perché chiaramente essendo tenuto da una caviglia si posiziona in verticale con l'acqua che praticamente è rasa alla testa di Joyce perché tra la borsa la misura della corda e l'altezza di Joyce che è un metro ottanta praticamente arriva paro paro ai due metri e mezzo dell'altezza dell'acqua ora se Joyce avesse voluto dimenarsi salvarsi appendersi al pontile tirarsi su staccarsi la corda quindi immergersi e staccarsi la corda l'avrebbe potuto fare tranquillamente no? perché come prima Norody diceva sembra proprio uno di quei di quelle modalità mafiose di uccidere le persone no? di zavorrarle e di lanciarle in mare se non fosse che quella modalità è sempre stata scelta con un fondale molto molto più profondo proprio per evitare che la persona sopravvivesse e soprattutto che venisse scoperto perché voglio dire se uccide una persona l'ultima cosa che voglio è che in modo in modo così veloce e repentino venga scoperto il cadavere che cosa è successo dopo la morte di Joyce ci sono degli elementi che hanno un po' scosso i familiari perché ci sarebbero degli strani fatti che si sarebbero susseguiti dopo la morte di Joyce ovvero una la riporta la nonna sulla tomba di Joyce dice che all'interno del portafiori che si trova accanto alla foto del ventenne in cimitero la donna avrebbe scoperto la presenza di una mezzaluna di pietra che prima non c'era la mezzaluna di pietra in realtà non è una vera mezzaluna è un sasso a forma di mezzaluna però sicuramente un minimo di così di stranezza la richiama e da quando poi il caso sarebbe stato portato alla notorietà da chi l'ha visto sarebbero accaduti altri fatti strani cioè a parte questa mezzaluna nel portafiori al cimitero sempre la nonna dice che qualcuno l'avrebbe spaventata nel cuore della notte bussando alla porta e lasciando alcuni segni vicino al campanello alle 4 mi sento suonare mi sono alzata e ho guardato dallo spioncino e ho visto che le luci delle scale erano accese non ho parlato e sono andata in cucina ho aperto la serranda e da lì ho visto un uomo tutto vestito di bianco ha riferito inoltre che la mattina seguente i muratori al lavoro nei pressi della sua casa avrebbero notato la presenza di un segno di penna a biro sotto il campanello dove sarebbe stata trovata anche un'incisione difficilmente inquadrabile sulla tomba di una zia di Gioispedone poi sarebbe stata trovata una cipetta morta con segni di strangolamento anche lo zio di Gioispedone avrebbe ricevuto una visita inaspettata dopo la recente presenza alla trasmissione chi l'ha visto dove ha riscontrato che qualcuno ha bussato a casa una cosa insolita perché qui di notte è tranquillissimo ma è capitato da 5 anni ovviamente ha bussato a casa di notte questi elementi da un lato sono stati letti come qualche mitomane che vuole spaventare la famiglia perché c'è questa storia della setta dietro dall'altra che questa fantomatica setta esista veramente che questa sacerdotessa esista davvero e che in qualche modo stiano mandando dei messaggi c'era un'altra testimonianza che avevo raccolto che però aspettate che la devo ritrovare allora dice questa ragazza qui che parlava di questo rapporto con la sacerdotessa dice lei stessa ha detto più volte a Joyce di non farsi condizionare così tanto ma che non è mai stata ascoltata quindi lui comunque non l'ascoltava quando lei dice ma lascia perdere questa scema è un rituale sì ok ma non può essere così tanto condizionata da questo rituale e lei dice lui si sentiva in trappola nel gruppo c'era una ragazza che si spacciava come sacerdotessa o comunque qualcuno che pratica paritualistica addirittura mi inviò anche un messaggio in cui mi ringraziava di come l'avessi aiutato a riprendere il sorriso quindi in qualche modo stava anche cercando di slegarsi da questa da questa persona e forse è proprio in questo elemento in questo slegarsi che va ricercata la motivazione della morte cioè per questo si pensa una punizione no faccio un rituale mi lego a te e poi mi voglio slegare questo rituale però l'abbiamo fatto con il sangue questo rituale ci lega per sempre se tu se tu fai qualcosa di brutto a me tu soffri no e questo potrebbe richiamare l'idea che in realtà sia stato punito in qualche modo quindi che probabilmente per volersi allontanare da questa sacerdotessa o da questa ragazza con cui aveva fatto questo rituale si è stato punito quello che non è plausibile è il suicidio a mio avviso non credo ci siano proprio gli estremi che parlare di suicidio certo non abbiamo tutte le informazioni ma voglio dire abbastanza rampante mentre vi ripeto con Gaia Randazzo io continuo ad essere abbastanza convinta del fatto che possa essere gettata perché le modalità lo richiamano non è non sarebbe così strano in questo caso mi sembra molto 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 infattibile molto improbabile che si possa essere ucciso in questa modalità che si possa essere